Bene ragazzi, passiamo dal serio al faceto e andiamo appunto verso il faceto, cioè la faccia sfaccettata del Berlusca. Andiamo proprio così, piove sul bagnato, cioè andiamo sul Berlusca proprio così perché... Ma Berlusca, perché abbiamo visto già Mike Buongiorno, Tiziano Ferro, l'abbiamo volutamente tagliato per non farlo sentire a una data persona che ne è fan e con cui sto avendo dei problemi, però non ciclopedia annovera anche i libri su Berlusconi. Per esempio, Berlusconi, non ciclopedia, istruzioni, vediamo un po', su non ciclopedia abbiamo Silvio Berlusconi, notizie, attentato a Silvio Berlusconi, Berlusconesimo era la regione nata a Berlusca City. Non ciclopedia notizie, non ciclopedia books, non ciclopedia books, ecco non books, Silvio Berlusconi, istruzioni per l'uso. Per esempio, omaggi poetici a Silvio Berlusconi, a cura di nessuno, all'ombra dell'artificiosa chioma mi sentivo quasi in coma, follato dai ricordi di te, meno male che Silvio. c'è, perfetto. Andiamo quindi a vedere, appunto, no, andiamo a vedere appunto books, non books. Non books su Silvio abbiamo, grazie per aver acquistato il modello base di Silvio Berlusconi, TM. Prima di utilizzarlo vi chiediamo di leggere questo manuale con attenzione al fine di scongiurare possibili imprevisti causati da un errato uso del vostro nuovo acquisto. Nella confezione Un Silvio Berlusconi base, tre bandane colorate, tre capelli con visiera, un Emilio Fede con lecca-lecca gigante, un marinano a picella con mandolino annesso, dodici paia di trampoli da pagliace equilibrista, due buste di capelli finti di Pippo Bauda. Allora, installazione è messa a punto. Dopo che i tecnici avranno trasportato a casa vostra il pacco contenente del vostro nuovo Silvio Berlusconi, disponete gli oggetti contenuti nella confezione non l'alfabetico sul pavimento, così da poter iniziare la fase di installazione. Del produttore declinò ogni responsabilità circa misteriosi ammanchi che potrebbero verificarsi in casa vostra. Applicate sotto i piedi del nano i trampoli forniti nella confezione. Usate una volta ultimate l'installazione, premete il pulsante inserito al posto della prostata e caricate uno dei 365 DVD software della personalità. Simpatico e corretto, il vostro Berlusconi sarà motivo di grande ilarità con i vostri amici. L'uso di Silvio Berlusconi base è piuttosto semplice, però c'è la pulizia per esempio. Berlusconi base si pulisce da solo, sogliendo se è dal suo banconote da 500 euro. L'accorgimento sarà cambiare tanto in tanti i capelli finti, per quanto riguarda la coscienza siamo spiacenti. Poi risoluzione dei problemi, per esempio, qualora riscontrate dei problemi, fate riferimento alla lista di controllo seguente. Il mio Silvio Berlusconi continua a ripetere che è colpa del governo precedente. Il mio Silvio Berlusconi afferma di essere comunista. Il mio Silvio Berlusconi fa sesso con Sandro Bondi. Potrebbe essere appunto, se detto in precedenza, è assolutamente normale, altrimenti controllate manualmente il software. Il mio Silvio Berlusconi fa sesso con Sandro Bondi.